Aereoporto di Fiumicino, Morandi e Zaviteri. Vincolarlo a metà degli anni 90 avrebbe significato farlo diventare uno scalo di provincia, farlo diventare uno scalo privo di possibilità di ampliarsi. C'era un solo terminal, adesso ce ne sono sei, e è uno degli scali europei più importanti. Voglio dire questo, anche se lo dico con parole forse non proprio scientificamente convincenti, non sempre, anzi spesso no, è possibile o giusto vincolare e rendere stabile la bellezza di un edificio di architettura contemporanea. E' meglio pensare che sono edifici edifici a geometria variabile.